Sindaco, un accordo atteso, un accordo annunciato, cominciamo a spiegare che cosa prevede. Prevede la ristrutturazione di una fetta di ex ospedale San Biagio dove avevamo il pronto soccorso al fine di dare una nuova sede ai nostri servizi sociali che hanno visto negli ultimi anni crescere esponenzialmente le necessità rivolte ai nostri cittadini, quindi riqualificare un'area. Poi c'era il timore fondato che anche il distretto, la sede del distretto nostro dell'Asle che attualmente è collocato in via Matteotti, in piazza Sant'Anna, potesse uscire da Clusone e andare in paesi limitrofi, quindi era necessario tenere sul nostro territorio un servizio del genere e soprattutto dalle segnalazioni avute dall'Asle rinnovare questa sede che oggi era definita non più agibile, non più idonea per i servizi nei confronti dei cittadini. Era necessario dare una risposta a quella zona su anche perché era un edificio abbandonato da ristrutturare. Assieme a questo ho voluto e abbiamo voluto dare una risposta a fatti e non a parole anche per la nuova sede dell'Avis. Anche quei rappresentanti dell'Avis ci si è incontrati più di una volta proprio per dare a loro una sede idonea nello svolgere i loro servizi e quindi anche a livello di raccolta, di futuri punti di raccolta anche di plasmaferesi. Quindi una collocazione su che è vicino al nostro Sant'Andrea, la nostra RSA, darà una localizzazione, un polo sociosanitario, chiamiamolo così, dove i servizi sociali trovano una nuova identità, una nuova sede e quindi devo dire che c'è tantissima soddisfazione per quello che è successo oggi ma che è un lavoro, ribadisco, che è nato a ottobre. Fondamentale anche il ruolo della regione, in che termini? La disponibilità che ho trovato negli assessori regionali a partire dall'assessore Belotti, Bresciani e Raimondi che con me hanno condiviso le mie e le nostre visite che abbiamo fatto in Regione Lombardia proprio perché la compartecipazione a questo intervento pari a 1.800.000 euro quindi in questo periodo trovare la disponibilità loro di trovare risorse per questa ristrutturazione è importante a loro va sicuramente il mio ringraziamento perché hanno anche messo a disposizione il loro tempo non è stato facile dovuto anche a tutta una serie di normative che conosciamo in questo caso devo ringraziare anche il nostro ufficio tecnico con cui stiamo già lavorando per la definizione di questo progetto. Abbiamo tempo sei mesi per approvare definitivamente in Consiglio regionale il tutto i nostri uffici sono già attivati perché di parole ne erano già state spese a inizio anno di promesse, più che di parole ne erano già state spese. A questo punto l'intervento è confinanziato da Regione Lombardia credo che dovremo vedere la nuova realizzazione del giorno di 18-24 mesi su quindi a loro va un mio ringraziamento, il mio ringraziamento va all'ufficio tecnico e un augurio di buon lavoro lo faccio soprattutto allo staff dei nostri servizi sociali è necessario stare vicino nel mondo del sociale a tutti i cittadini la troveranno come ho detto prima la disponibilità di ambienti nuovi e la svolgeranno al medio il loro lavoro rivolto essenzialmente ai cittadini non solo di Cusone ma a tutta l'Alta Valle perché sappiamo che l'accordo comprende anche il distretto della Valle di Scalve.